Allora c'è un partigiero a casa che era prendere immediatamente, si chiama Mezza Pisa Fan Sua e lui sta praticamente in via Calvani e vorrebbe arrivare in via Bartolomeo Perestrello Non sapete qual era il piatto preferito da D'Arpagnan? Eeeh no Il pesce è il pada Vabbè basta E chiuda Eccolo, no ma che bel tipino, ma che bel tipino, guarda che faccia, aspetta aspetta Ciao, ciao tu sei? François Mezza Pisa Sali, 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 ciao, petti nel centro, meno comodo François? Sei francese? No, no, di Putignano, vai Come ci vuoi aiutare? Sai cantare? Come hai pensato di potegnarti questo passaggio? Diciamo un argoletto è fare il sorso di signore Cristicchi C'è più François Mezza Pisa 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 Ha 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 ha, ti ho finito? Ha 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 Senti François, stai cantare qualcos'altro, ballare? Perché è vero che poi c'è anche del ballo, c'è anche ballare, non è facile? Cantare e ballare Ho pensato Che hai pensato? Di una canzone di Canestà, in... Senti François Ma vai 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 vai, però in Barice In Barice? Si, vuoi fare... Eeeeeh... E' essendo Barice A a a a a a E' e' essendo Poutignano, un paese un Carnaval E' ah eh 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 Vabbè, naturalmente Poutignano è il paese del carnivale eeeh so gotto coutignano e fa si non ce la vè a a a a a a poi ci provo c'è qualsiasi cosa ci puoi mettere si tanto tanto che se ne è volto giusto fa cagare non lo volete me ce lo dici tu? tu stai via a Roma? si io da oggi io da oggi? e c'è già chiamato proprio oggi? da oggi c'è se mi vado a Roma una volta ci hai chiamato eh si